Ok, allora, ti faccio vedere dov'è. Fermo lì. Condividi schermo, condividi schermo. Allora, a destra... Ti posso fare vedere l'amministratore? C'è Automation License Manager. Eh, ma qua te lo posso. Sì, ti devi andare a trovare la tua licenza, che la troverai di sicuro in un botto. Io lavoro con le combo a destra e a sinistra. Ti trovi la tua licenza per quanto riguarda il Safety, ti apporta la, vedi, ti apporta il 16, Professional, Professional. Te la devi trovare qua. Sì, ma io ne trovo una e un'altra di alla, praticamente. Ok, condividi lo schermo, ho già capito dove è il problema. Te posso condividere lo schermo? Condividi, condividi, secondo me sì, puoi sì. Condividi schermo e partecipanti, prova. Vai, Automation License Manager. Ce l'è anche lì a sinistra, perfetto. Ecco come sono combinato. Ok, va bene. Basta che quella sotto. Ho capito. Allora, ti spiego, ti spiego. Perché il fornitore che te l'ha venduto, te l'ha detto? Non mi ha detto niente. Porca zozza. Siemens, di sicuro altre marche, non lo so. Siemens funziona così. Una licenza per il TIA, per i PLC, una licenza per i pannelli operatori. Infatti, se tu vai nella terza colonna, product, lo vai ad ampliare, lo vai ad allargare, la terza colonna, aprica. Questa qua? No, la terza, la terza, la terza da sinistra. Ah, product. Prevedi che c'è step 7 professional e il PLC. Step 7 gestisce il PLC. E ce l'hai in floating unlimited, quindi non hai problemi. I pannelli operatori sono una cosa a parte. Ma non è tutto come si chiama. Sti ragazzoni ci stanno bene all'occhio di vendere le cose a parte. Loro dicono, se vuoi gestire il PLC, ti prendi la licenza. Se vuoi gestire i pannelli operatori, ti prendi un'altra licenza. E io che devo fare per prendere sta licenza? Eh, è la stessa cosa che hai fatto per prendere quella dei step 7. Altri 2.000 euro non ci voglio. Spero che non sia, non so quanto costi. Aspetta, fammi vedere. Dove è il... Isci. Come si esce da qua? Ok. È così, ragazzi, è così. Mamma mia. Loro ci marzano perché, io l'ho già chiesto, eh. Io ho chiamato direttamente responsabili a livello italiano per quanto riguarda la Siemens, perché all'epoca, parliamo dell'anno scorso, volevo... Aspettate... WinCC... WinCC upgrade... WinCC upgrade, 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 prograde. V17... No, V16, t'interessa. WinCC V16. Basic... Ahi, mi dispiazza. 750 euro. Mazza. La Profession, la Comfort. Se avevi una licenza vecchia, tipo la V15, costava 300 euro perché facevi solo upgrade, però... No, se tu non hai licenze costa 750 euro. Funziona così. Funziona che la Siemens, quando io ho chiesto l'anno scorso di generarmi delle licenze gratuite per tutti i miei studenti, quindi si parla di tutti voi, per fini e scopi di studio, hanno negato perché hanno detto che loro, innanzitutto, la Siemens, ma a livello mondiale, eh, questo non solo l'Italia, genera soltanto le licenze, poi dopo uno se le deve comprare e utilizzare, però io ho detto, ok, ma qui stiamo studiando, non stiamo andando a lavorare. Dopo sì, è vero, c'è la gente che andrà a lavorare e si comprerà la licenza, ma per studio mi fa, no, assolutamente la Siemens non gliene frega, dalla mattina alla sera se tu studi o lavori. Mi puoi scrivere sulla chat che cosa devo cercare? Il problema che a me personalmente, adesso io ti do il link di cosa ho appena guardato, così puoi andarlo a vedere anche te, ti do il link, aspetta. Tu l'hai comprato su Automation? No, l'ho comprato su PNC City, Automation, ma non ce n'aveva. Ok, vai a vedere, io ti ho dato il link dell'Automation, ho scritto WinCC V16, la Comfort, Comfort. Non la Advanced, non la Advanced. Perché c'è la Basic, la Comfort, la Comfort è un po' più costosa, c'è tutti i pannelli. Ho capito, ma la Advanced, non c'è la Advanced. C'è anche l'Advanced, ma lascia stare, se non lo usi per questioni lavorative, non lascia stare. Vabbè, ok, la Comfort, va bene. Ok. Per questa roba non c'è il recesso, no? Io secondo me non ho il diritto di recesso. Non l'hai comprato, te lo devi tenere, giusto? Lo puoi rivendere, si rivende tranquillamente. Se Giuseppe non c'è più voglia di usare il TIA16, lo prende, lo mette su Ebay, lo metti su Marketplay, metti dove vuoi, lo vendi a qualcun altro, dopo lì entri come comprare la bicicletta, lo compri, ti è piaciuta, l'hai utilizzata, non ha una scadenza, è la licenza. È come se fosse una bicicletta che ha una vita infinita e tu quando non la vuoi più la vendi. Te la cerchi, però. Quindi se uno non si ritiene soddisfatto, non glielo vorrò... Ah, beh, per legge italiana c'è il diritto, garanzia, soddisfatti e rimborsati entro 7-14 giorni o cosa del genere. Allora, è questo il sito, c'è l'Hilding? Sì, questo qua è l'automation, quello che ti ho dato. Ok. Va bene. E allora praticamente la Siemens è che sono dei cornuti. Sì. Sono dei cornuti, diciamo. Volevo vedere. Tieni in considerazione che ce ne sono miliardi di licenze che la Siemens frutta, il safety, poi c'è il pannello operatori, non ce n'è solo uno, ma ce ne sono tre o quattro e così via. Il safety, poi c'è quello che riguarda le energie, quello che riguarda la diagnostica, di tutto di più c'è. E quindi loro per qualsiasi cosa che devi fare, tu dici, vuoi questa licenza per fare quel lavoro? Caccia i soldi. Carcia i soldi, ti dicono. I tedeschi ti parlano in romano. Ok. Aspetta che io copio questo link, scusa. Ma io ho scritto WinCC V16. E come ti dicevo Giuseppe, se lo usi per studio, hobby, quant'altro, sarebbe dura. A meno che non sia un miliardario, che non te ne frega niente la mattina o la sera, va bene. Ok. Se mi deve servire per fare il corso, lo devo... Sì, diciamo che cavolacci, duemila euro adesso, 750 per una licenza, sarei vissuto più di macchine virtuali a manetta per risparmiarli, piuttosto. E' importante che poi col lavoro le vai a recuperare, mi raccomando. Sì, ma la macchina virtuale, una volta me l'hanno installata bene, io l'avevo installata bene. Poi ho avuto problemi e mi sono rotto la scatola. Non ti capisco, ti capisco. Ma l'importante è che dopo con questo tu vai a recuperare subito quel lavoro. Quindi fatti pagare bene e recupera l'investimento. Va bene, va bene. Ok. Allora, il problema è che fra tre piottone di licenza, altre due, tre per un pc decente, e c'è un sacco di soldi per farci... Non è un... questo non è un mestiere da... I dipendenti sotto azienda, l'azienda li scarica tutte queste cose ed è accomodato. Naturalmente vado a fare il dipendente, l'azienda mi deve procurare materiale per lavoro. Faccio il libro professionista, giustamente il libro professionista deve prepararsi in anticipo per il lavoro che andrà a fare. Quindi, che abbia le macchine virtuali, che abbia le licenze, che abbia un computer, che abbia un computer, poi dopo si fa pagare 20.000 euro al mese per il lavoro che ha fatto, quindi se le recupera. È un po' più per il privato la difficoltà. Soprattutto per un hobbysta, nel senso l'hobbista si prende la pensione, punto stop, e si compra la licenza, poi dopo è una cosa che rimane a lui.